Dopo mesi di segnalazioni e preoccupazione da parte dei cittadini, complice la breve tregua concessa dal maltempo, sono iniziati stamattina i lavori per ripulire l'alveo del torrente Cosia. L'intervento di manutenzione straordinaria, costo complessivo 25.000 euro, è affidato all'Ersaf, lente regionale per i servizi all'agricoltura e le foreste, braccio operativo di Regione Lombardia. La prima fase in città, nel tratto tra via Castelnuovo e via Ambrosoli, avviata oggi, dovrebbe durare una decina di giorni. Nella parte terminale si è sviluppata negli ultimi anni vegetazione arborea e arbustiva, che di per sé è anche ostacolo al deflusso delle acque, anche se non così drammatico, però dà un problema sulla stabilità dei manufatti, sulla pavimentazione, per cui un intervento di ripulitura, a questo punto direi anche quasi totale, della vegetazione è più che necessario. Poi da febbraio e per un mese le operazioni proseguiranno nella parte a monte, fino al confine con il comune di Tavernerio. Si rimuoveranno le piante pericolose e gli ostacoli al deflusso delle acque. Lungo il torrente, negli anni, è cresciuto di tutto. Soprattutto interveremo su tutte le piante esotiche, c'è di tutto di più lungo il COSEA, a partire dal poligono del Giappone, l'ailanto, la buddeleia, insomma, tanti arbusti che noi magari non li conosciamo, ma non fanno parte della nostra flora. E come sono arrivati? È come arrivano ormai un po' tutti gli organismi, sia animali che vegetali, con questa globalizzazione e globalizzazione anche per loro. E poi i fiumi sono un veicolo di disseminazione del seme molto forte, per cui è facile poi diffondersi su tutta l'asta. L'intervento vedrà la collaborazione degli alpini comaschi, che da tempo si erano resi disponibili a fornire il proprio contributo. Si occuperanno a cantiere sospeso di smaltire ramaglia e materiale vegetale, fieri di poter offrire il nostro lavoro, ha detto il presidente Enrico Gaffuri. Nei mesi scorsi a portare avanti le richieste dei cittadini, i consiglieri regionali lariani, Luca Gaffuri, PD e Francesco Dotti, fratelli d'Italia, che avevano sottoposto il problema all'assessore regionale al territorio Viviana Beccalossi. Abbiamo concordato il da farsi per la pulizia del greto, che si vede in che stato pietoso è. L'ufficio del territorio ha stanziato una cifra abbastanza cospicua per la pulizia. Devo dire che finalmente, quando si riesce a parlare di politica, riesce a parlare con i cittadini e con le associazioni, i problemi si risolvono abbastanza in fretta.